Anno nuovo, buoni propositi nuovi. Li fanno tutti, allora anche noi appassionati di vino ci mettiamo di impegno. Oggi ve ne voglio lasciare quattro. Il primo riguarda lo champagne. Mi raccomando, non usate mai il freezer. Lo champagne di buon livello va bevuto fra gli 8 e i 10 gradi, quindi frappos, ghiaccio e acqua. Secondo punto riguarda i vini bianchi. Troppe volte vedo bere vini di alto livello bianchi a temperature troppo fredde. Si perdono un sacco di dettagli così, quindi mi raccomando, non troppo freddi. Terzo punto riguarda l'opposto, i vini rossi. Quante volte si vede bere un vino rosso di ottimo livello caldo, specie nei mesi estivi, magari 19, 20, 21 gradi. Ecco, così si perdono le finezze, anche qui i dettagli. Ultimo punto, quarto e ultimo punto, beh, da non dimenticare assolutamente, non bevete sempre gli stessi vini o la stessa tipologia, almeno quest'anno.